Una all-star europea, formata da due russi, un inglese, un francese e un italiano, ha aperto l'edizione 2022 del Festival Internazionale del Jazz, Rumori Mediterranei, di Rocella Ionica, con una performance che, per qualità, può entrare a pieno titolo nel listing delle migliori prestazioni di sempre. Si tratta di una produzione originale, nonché di una prima mondiale, nate da un progetto che ha fatto incontrare 5 musicisti europei sul palcoscenico di Rocella Jazz. Un omaggio in piena regola ai grandi maestri della musica nera. La manifestazione in musica tra le più importanti del meridione si sta tenendo a Rocella Ionica dal 13 luglio fino al 17, nella tradizionale sede del Teatro al Castello. È prevista inoltre una seconda sessione che si terrà dal 31 agosto al 4 settembre. Il direttore artistico dell'evento è Vincenzo Stajano. Quello del Rocella Jazz è un programma composto da produzioni originali, prime assolute e novità di rilievo del panorama jazzistico internazionale. È previsto anche un campus didattico che mira a incrementare la cultura jazzistica dei giovani musicisti e di chi è interessato a migliorare le proprie conoscenze musicali.